Di più il nostro debut è molto ripido, e quello che abbiamo scritto è un'attività di un'attività di un'attività, quindi il lotto è un'attività in carattere da qualsiasi di un'attività. Le banchine sono molto caratteristiche perché sono integrali, rispaldano un'ultima canto come gli anni stavano in canto. La banchina Juventus è a sinistra, quell'area delimitata e complessiva su una scritta trans. Dall'altra parte la banchina è la storia della banchina. Quindi per esempio chi è stato per il Catanieri oppure il ricazzo di Ocolutene può capitare che se si è vicino, hai la foto per lui. Quindi le banchine di legazione ai mercatori, che peraltro per una buona via di lui.